Salve, salve da Marco Calabro per conto di Alleanza Immobilieri. Ci troviamo oggi a Roma, siamo da Redamenti Pastore, al chilometro 20 e 300 della via Casilina, proprio di fronte alla nuova stazione Pantano della linea C del metro. Andiamo a vedere un divano in pelle, il divano è il modello Stresa di Delta Salotti Italia. Vado fuori campo per vedere il prodotto. Il prodotto vediamo, innanzitutto è un prodotto in pelle, e vediamo che il prodotto è da un lato chiuso in posizione naturale, chiamiamolo così, e dall'altro lato invece Redamenti Pastore ce lo fa vedere esteso, così come viene presentato, viene proposto nella soluzione Relax. Quindi come vedete c'è un guadagno di seduta notevole rispetto alla seduta normale. Quello che stavamo vedendo era il divano Stresa di Delta Salotti Italia che abbiamo visto da Redamenti Pastore a Roma. Grazie sempre per ascoltare Alleanza Immobilieri e arrivederci al prossimo video.